E rieccoci in diretta nuovamente Buonasera, aspettiamo un po' che si connettano le persone Allora, qui è partito Benissimo, ci siamo sia qui Su Instagram ci siamo Buonasera agli amici di Instagram Anche Facebook è andato Controllo anche YouTube Dovremmo esserci su tutto, sì Ok, ok, ok Ciao Stefano, buonasera a te Allora Ciao Mattia Ok, ci siamo Bene, bene, bene Altra diretta questa sera Siamo nell'ultima diretta del nostro lancio del manuale Questa settimana avrò l'esame di ossia Ok, sicuramente Mattia andrà benissimo Buonasera a tutti di Instagram e gli amici di Facebook Vedo che già mi state iniziando a scrivere Allora, allora, allora Che ore sono? Sono le otto e tre Aspettiamo i soliti cinque minuti canonici Diamo un po' di tempo alle persone di collegarsi E partiamo Intanto io finisco di sistemare le ultime cose Come state? Mi sentite? Mi sentite? Mi vedete? Bene, bene, bene Allora, questa diretta Siamo in diretta di chiusura Nel senso che dopo circa due settimane di No, forse anche un po' meno Una settimanella di chiacchierata Riguardo il lancio del manuale Abbiamo aperto da ieri a mezzanotte i carrelli E questa sera li andremo a richiudere Scusate un secondo Che mi manda Eccolo qui il mio buon Manfredi dalla regia Mi manda il link Ve lo posto come sempre Eccolo qua Allora, dicevo Oggi sono stati due giorni di fuoco Dal nostro punto di vista Nel senso che Siete stati veramente Veramente in tanti A richiedere le copie E Aspettate che Manfredi Mi sta mandando una marea di roba Allora, aspettate Facciamo così Mi sta mandando due link Allora, questo è quello del manuale Questo è il link del bonus Intanto che aspettiamo che si connettono le persone Allora, dicevamo Sono stati due giorni di fuoco Perché? Perché praticamente in questi giorni Appena abbiamo aperto i carrelli Abbiamo avuto veramente una marea di acquisti Quindi, per prima cosa Vorrei ringraziarvi Per tutti quanti Della fiducia che mi avete dato Molte persone Ci hanno contattato Ci hanno inviato messaggi Dicendoci che comunque Già ci seguivano da tempo Seguono le mie dirette Si guardano Seguono i video sul canale YouTube Quindi, insomma Hanno preso al volo Questa possibilità Di poter Finalmente il manuale C'era stato chiesto da mesi Perché l'avamo messo in vendita Come vi ho detto già l'altra volta A luglio E abbiamo riaperto i carrelli Appunto per queste 48 ore Che finiranno Solo questa sera a mezzanotte Allora Scusate Intanto Con C'è stato un piccolo problema Durante l'arco della giornata Abbiamo avuto una piccola defiance Perché appunto Sono state talmente tante Le richieste del manuale Che il software è andato down Quindi È andato giù il sistema Non siamo riusciti Praticamente le persone Non riuscivano Ad acquistare Tramite carta di credito Abbiamo risolto Contattandovi personalmente Uno ad uno Le nostre Diciamo La nostra collega Vi ha contattato E quindi Abbiamo risolto tramite IBAN Nel frattempo Lo nostro staff tecnico Durante la giornata Ha lavorato Per risolvere questo problema E ce l'abbiamo fatta Quindi Vi ho aggiunto Per gli amici di Instagram Trovate il link In bio Quindi se non avete ancora Acquistato la copia Affrettatevi Perché a mezzanotte Non ci sarà più la possibilità Di comprare il manuale Quindi nel link in bio Trovate tutto Il link Dove potete appunto Acquistare copia del manuale Mentre Per gli amici che si trovano Su Facebook O su YouTube Vi ho messo I due link Un link riguardante Il manuale Un link riguardante I bonus extra Cosa fondamentale E sono molto contento Di aver visto Che quasi la maggior parte Delle persone Hanno deciso Di fare un upgrade E di entrare in possesso Anche del bonus Questo bonus A mio avviso È stato Forse una delle armi Più vincenti Che abbiamo deciso Di mettere in campo Perché? Perché a un prezzo Irrisorio Abbiamo dato Tanto contenuto Abbiamo creato Un bonus Di 20 video All'interno dei quali Siamo andati A inserire Tutta un'introduzione Su quella che è L'ambito viscerale Cosa che non viene trattata All'interno del manuale Quindi è un buon compendio Per andare ad applicare Oltre La parte Dei concetti strutturali Anche iniziare A masticare Un pochino L'ambito viscerale Quindi Come relazionarsi Con la classe medica Quando parliamo Di osteopatia viscerale Abbiamo inserito Due trattamenti Su pazienti reali Quindi Estremamente utile Per iniziare Ad applicare Un ragionamento Di quello magari Che viene studiato All'interno del manuale Quindi Studiare i concetti E poi Vedere Applicarli È una nota Estremamente utile Dopodiché Abbiamo messo Una scheda di valutazione Che è la mia scheda Di valutazione Che utilizzo Su paziente Che appunto È una scheda scaricabile Quindi potete Tranquillamente Scaricare la scheda E utilizzarla Farla vostra Potete personalizzarla Insomma Fate quel che credete La cosa importante È che insieme Alla scheda di valutazione È stato aggiunto Un video Nel quale Vado a spiegare Nel dettaglio Come utilizzare Questa scheda di valutazione Quindi quali sono Tutti gli step Da seguire Per andare A compilare La scheda Scusate Nel frattempo Il mio cane Si è arrampicato Quindi quali sono Tutti i passaggi Per compilare La scheda di valutazione Abbiamo inserito Inoltre Tutto quello Che riguarda La teoria Del trattamento Generale osteopatico O GOT Generale osteopatic treatment Per gli osteopati Che è un'arma Estremamente potente Perché il trattamento Generale osteopatico Intanto è uno strumento Privo di controindicazioni Quindi è sicuramente Uno strumento Che è versatile Ed utilizzabile Su qualsiasi paziente Su qualsiasi fascia d'età Quindi Uno strumento Estremamente potente E Quindi Primo di controindicazioni Utilizzabile su chiunque E al tempo stesso Ha la potenza Di essere Sia uno strumento Diagnostico Che uno strumento Terapeutico Nel senso che Mentre io effetto Il mio TGO Vado a Valutare Il paziente E Contemporaneamente A trattarlo Mentre Valuto Tratto E quindi Vado a Evidenziare Quali sono Le zone Magari Di ipomobilità E questo è un altro Argomento Che abbiamo inserito All'interno Dei 20 video Perché appunto Il concetto Di ipo iper Come mi avete già sentito Dire più volte È un concetto Estremamente Importante Perché è uno Di nostri Meccanismi Di strategie Terapeutiche Più importanti Che ci troviamo Ad utilizzare Più spesso Soprattutto Da strutturalisti E quindi Il concetto Poi Siamo andati A spiegarlo All'interno Di questo video Di questi video Bonus 20 video 20 video Perché era Stata la nostra Arma vincente Perché dicevo Che è un prezzo In realtà Abbastanza Irrisorio Abbiamo dato La possibilità Di accedere Comunque A una formazione Già Più completa Rispetto Al semplice Manuale Che fino adesso Non era possibile Nel senso che Tutte le nostre Realtà formative All'interno Della nostra Società di formazione Hanno sempre avuto Dei costi Tendenzialmente Più elevati Comunque Considerate che Osteopathic Revolution È un corso Della durata Di oltre 60 ore Quindi Stiamo parlando Di tanta 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 Tanto Contenuto Tanto materiale Centinaia E centinaia Di pagine Scaricabili E stampabili Quindi vabbè Sicuramente È un Prodotto Estremamente Superiore In questo senso Ma Ha anche Un impegno Economico Quindi Sicuramente Per le persone Che vogliono iniziare A entrare All'interno Di questa realtà Di questo mondo A un prezzo Abbastanza irrisorio Abbiamo dato Una possibilità Di iniziare A studiare Con noi E entrare All'interno Della nostra Formazione Poi quello Appunto È il nostro Primo step Da lì Tra manuale Video bonus Si prosegue E possiamo andare A scalare La nostra formazione E scoprire Sempre un mondo Ampio E più completo Quindi Questa diretta Volevo dedicarla Se ce ne sono Soprattutto Domande E quindi Andare a Dare riposte Agli ultimi Magari persone Che ancora Sono in attesa Di acquistare La loro copia Quindi le ultime curiosità Gli ultimi dubbi Sono qui in diretta E Sono a vostra Completa disposizione Scusate che stavo leggendo Buonasera 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 a tutti Ok In caso di infiammazione acuta È meglio non usarlo Corretto? No Mattia Non sono molto d'accordo Assolutamente Dipende Allora Riformulo 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 Dipende Cosa intendi Nel senso che In una fase di infiammazione acuta Se stai parlando Non so a cosa tu ti stia riferendo Se pensiamo a una cervicobrachialgia O pensiamo ad esempio A una radicolite Una sciatica Mettiamola così Sicuramente Non farò un TGO Ma non perché Chissà cosa posso fare O perché Può essere controproducente Semplicemente perché Il TGO Ha una regola Estremamente importante Cioè quando Wernom Cognò Il TGO Il TGO Ha questa regola Di base Che è quella di In osteopatia Bisogna essere Scusate che avevo Una chiamata Quindi era andata Un attimo giù la connessione E bisogna essere Il più aspecifici Possibile Tranne nei casi In cui è strettamente Necessario Quindi in una In una sciatica In una radicolite Andrò a concentrarmi Su strategie Terapeutiche Su tecniche Completamente diverse Perché Devo essere In quel caso Molto specifico E non più Aspecifico Però non è che È controindicato È meglio non utilizzarlo È semplicemente Un Forse in quel caso Un'arma Un po' meno Potente Un po' meno efficace Sceglierò Tecniche Più specifiche Considera che Su infiammazioni Cioè su radicoliti E sciatalgie Abbiamo pubblicato Non mi ricordo Mi sembra Prima di Natale Abbiamo lanciato La nostra certificazione E che era appunto Radicoliti Certification Che è una certificazione Riguardo proprio Esclusivamente Questo tipo Di problematiche Quindi siamo andati A dare Quelli che sono I nostri protocolli Per quanto riguarda Il disco Manipolazioni In presenza Di ernie Ecco Anche di questo Si parla All'interno del bonus All'interno del bonus Parliamo anche Dei trust In ambito di ernia Quindi Si può utilizzare Non si può utilizzare Andiamo a dare Un po' di chiarimento Anche su Questo argomento Ciao Max Benvenuto in diretta Qualche domanda? Questa diretta Dicevo Per te che ti sei collegato Adesso Era una diretta Di chiusura Nel senso che Stiamo Stiamo chiudendo Questa sera A mezzanotte I carrelli Per acquistare Il mio manuale E quindi Mi sono in diretta Anche oggi Mi sono fatto Due dirette di fila Ieri e oggi Stesso orario Proprio per Mettermi a vostra Disposizione E chiarirvi Qualsiasi dubbio O idea Ciao Ascolta Io soffro di cervicale Guarda Non è cattiveria Non posso darti Risposta Come detto Ogni volta Non perché Io non voglia Ma perché Non avrebbe Alcun tipo Di valore O di Di significato Nel senso che Per darti Risposta reale Al tuo tipo Di problema È fondamentale Come sempre Fare una valutazione Visitare Capire qual è La causa E quindi Come sempre Ti consiglio Di affidarti A un professionista Di tua fiducia E capire come Dove Dove lo compro Dove lo compro Dove lo compro Max Guarda Se tu mi stai seguendo Da Instagram Quindi lo puoi trovare Sul link in bio Se tu clicchi sul link in bio Trovi la possibilità Di acquistarlo Direttamente Anzi Stavamo proprio dicendo Che abbiamo avuto Una giornataccia Dal punto di vista Tecnico Nel senso Una buona giornata Perché Siete stati tanti A comprare E il software È andato in down Quindi Non siamo riusciti più A far acquistare Il manuale Per un po' di ore Ma abbiamo risolto Contattando personalmente Tutte le persone Che ci arrivavano Appunto Il rifiuto di acquisto Sul software L'abbiamo ricontattati Abbiamo proceduto Tramite bonifico Quindi la nostra collega Ha mandato tutto quanto Fibromialgia Intoleranza alimentare Cioè correlazione Argomento estremamente Complesso Estremamente Bello Nel senso che La fibromialgia È uno dei problemi Che oggi Nel 2021 Ancora non abbiamo Le idee estremamente chiare Quindi È difficile Darti una risposta Certa Al riguardo Posso dirti Che sicuramente L'alimentazione Negli stati infiammatori O comunque In molte patologie Anche autoimmuni L'alimentazione Può ricoprire Un ruolo estremamente Importante Abbiamo Molti casi Di Alcuni casi Li conosco personalmente Di pazienti Anche con Che so Dico Le artrite reumatoide Che tramite L'alimentazione Sono riusciti a migliorare In maniera estremamente In maniera estremamente Importante I loro valori Quindi L'alimentazione È un'arma Estremamente potente Però non si può fare Anche lì Il fai da te Dovete sempre affidarvi A persone Di competenza Quindi Reumatologi Internisti E persone Che Nutrizionisti Dietologi Insomma persone Che curino Questo tipo Di problema Quindi stavo dicendo In realtà Siamo tornati Alla fine Nell'arco della giornata I nostri tecnici Sono riusciti a risolvere Il problema Del software E quindi È nuovamente Acquistabile Per le persone Che si trovano su Instagram Tramite il link mio Per le persone Facebook E YouTube Tramite il link Che abbiamo postato Troverete due link Proprio perché Uno è il manuale L'altro Sono i 20 video bonus Allora Vediamo se c'è Qualche domanda Qualche domanda Qualche domanda Qualche domanda Avevo visto Una domanda Qui Cosa c'è nei bonus È quello che ti dicevo Prima L'ho spiegato prima Velocemente Ti ripeto Il bonus È un bonus Da 20 video All'interno dei quali Abbiamo inserito Tutto quello che riguarda Il trattamento generale Osteopatico Quindi abbiamo inserito Quali sono i concetti Fondamentali Abbiamo inserito I concetti Sulla manipolazione In ambito Di radicoliti Del disco Abbiamo più di 10 video Di contenuto Su tutto quello Che riguarda L'ambito viscerale Quindi soprattutto Come relazionarsi Con il medico Perché Quando noi parliamo Di una cervicalgia Su base viscerale Oltre a spiegarlo Oltre a spiegarlo Sicuramente Al paziente Ci troveremo Anche a doverci Confrontare Con uno specialista Tante volte Se vi manda Un paziente Un ortopedico E voi Giustamente Pensate Che quella cervicalgia Possa essere causata Da uno stomaco Da una disfunzione Epatica Che sia Ovviamente Dovete Argomentarlo E quindi dovete Essere molto padroni Dal punto di vista Concettuale Di questo argomento E per questo Che abbiamo inserito Anche un video Su quelli che sono I tre legami I tre legami Sia Dal punto di vista Del che cosa sono E soprattutto I tre legami Come applicarli A livello dell'ambito Viscerale Abbiamo Inoltre Ci sono Ripeto Nuovamente Due video Trattamento Su pazienti reali Per capire Come ho applicato Su pazienti Il Quello che appunto È stato scritto All'interno del manuale Questo è un bonus Che avevamo riservato Ai nostri studenti Di Osteopatic Revolution Loro ovviamente Hanno molti Più casi studi Continuiamo A caricare Continuamente Materiale Sulle piattaforme E che cos'altro La scheda di valutazione La scheda di valutazione Mia Sia di Scaricabile E stampabile Potete andare A personalizzare E scrivere E Un video Dove vado a spiegare Come utilizzare La scheda di valutazione Quindi Ho ripetuto Nuovamente Ciao Paolo Buonasera a te Pina Buonasera Ci sono domande Qualche curiosità Qualche informazione Mi raccomando Mi raccomando Ricordatevi Entro la mezzanotte Perché da domani Non sarà Possibile Acquistare Né il manuale Né il bonus Gianni ma tu sei Un collega O sei Un paziente Partiamo da questo Presupposto C'è Correazione Tra sinusite Intestino Ho visto che ci sono Le date per i tre giorni In aula Si Max Ci sono Simona Tu sei sul gruppo Di Osteopathic Revolution La nostra Restabile dei corsi Ha pubblicato Qualche giorno fa Mi sembra La settimana scorsa Le Ha pubblicato La settimana scorsa Le date Ufficiali Dove andremo Se Dio vuole Riusciremo Tramite queste Restrizioni Covid A fare le tre giornate E È un po' Che ci portiamo Dietro Dovuto saltare Causa Covid Però ci sono Ci sono Ci sono Se non l'hai fatto Per favore Manda anche tu La conferma Perché so che Simona aveva scritto Appunto Sul gruppo Di mettere la conferma Per comunicare appunto I nominativi Poi alla sede Quindi se non l'hai fatto Avvisala in modo tale Che anche tu Sei tra i nominativi Va bene ragazzi Io direi che Questa diretta Ce la siamo portati a casa Quindi Vi ricordo Fino a questa sera A mezzanotte Anzi Per la precisione Il buon Manfredi Alle 23 59 minuti E 59 secondi Chiuderà La possibilità Di acquistare Il manuale E niente Se non l'avete ancora fatto Affrettatevi E entratene in possesso Perché abbiamo Tante testimonianze Questo l'avevo detto Anche ieri Mi sembra Che abbiamo contattato Alcuni nostri colleghi Collaboratori Hanno contattato I precedenti Acquirenti Del manuale E siamo stati Veramente felici Nel vedere Che molte persone Hanno cambiato Il loro modo Di lavorare Solo tra Solo Tra virgolette Tramite l'utilizzo Di un manuale Quindi è un manuale Che vi ripeto Per le persone Che lo hanno acquistato Non lo leggete Una volta sola Sembra che tante cose Le avete capite Non le avete capite Quindi rileggetelo Rileggetelo E rileggetelo Ogni volta E soprattutto applicatelo Questo Il manuale Verrà accompagnato Da una lettera Da una lettera Dove ci si è spiegato Tutto quello Che dovete fare Con questo manuale E Quando studiate Un qualcosa Cercate di applicarlo Quindi non andate avanti A leggerlo Solo per finirlo Ma Leggetelo con calma Ogni capitolo Rivedetelo Applicatelo E vedrete che Vi modificherà Il modo di lavorare Ragazzi Vi auguro una buona serata Una buona settimana Visto che oggi è lunedì In genere le dirette Sono di giovedì E Niente Vi aspetto Dentro Il nostro mondo Quindi Buona serata a tutti E Ci vediamo presto Probabilmente Giovedì prossimo Faremo un'altra diretta Comunque pubblica Un saluto